Salve a tutti, scusate se ho questo outfit non proprio da super brillante, super professional in giacca e cravata, ma questa tutta da ginnastica in stile un po' Fidel Castro, ma lascio così l'apparenza dell'esteriorità ai professionisti del marketing, che il marketing tra l'altro è qualcosa che proprio non apprezzo più di tanto. Sono Mattia Frizzero, ho 30 anni, 21, 10 e 81, mi sono laureato un paio di anni fa in studi internazionali e sono 10 anni, infatti il mio primo articolo fu in corrispondenza dell'introduzione dell'Euro, appunto sono 10 anni che faccio giornalista, a fine 2010 ho voluto provare a buttarmi come partita IVA con Medianfrizz, medianfrizz.blogspot.com, comunicazioni, informazioni e relazioni, vorrei provare a fare del giornalismo in maniera un po' diversa dal solito mainstream, infatti anche aver studiato economia 3 anni mi hanno imbottito di mainstream e quindi ho voglia di un po' di qualcosa di diverso, semplicemente puntando alle caratteristiche personali, vi saluto!